6 Nadal di Jesolo, seconda linea 7 Nevada Jet 1.60 in chiusura per Naldanov numero 5 Pietro Gubellini, Noa Gensiela seconda scelta Roberto Vecchione numero 2 è stato subito l'errore di Nevada Jet mentre Naldanov si avvantaggia e in breve scende in corda superando Nocchiero M e Noa Gensiel più indietro è Norris Griff poi Nadal di Jesolo in nera azzurra intanto Naldanov subito leader in 50 metri percorre i primi 200 in 14.8 e conduce avanti a Nocchiero, Noa Gensiel, Norris Griff e via via tutti gli altri con Nevada Jet che è rimasta subito out per l'errore 400 intanto in 30.8, Naldanov ha percorso con molta gradualità i primi 400 di gara, si trascinano Nocchiero M e Noa Gensiela poi più indietro Norris Griff a precedere Naldiesole e nera azzurra non succede nulla praticamente nemmeno dopo 600 metri in 47.5 tutti alle spalle di Naldanov che completa il primo giro praticamente una marcia di trasferimento fino agli 800 completati in 1.2.8 secondo quarto in 32 tutti in fila indiana ora alla terza posizione Noa Gensiel prova a spostare c'è l'errore invece di Norris Griff numero 1 così Naldanov completi l'1.17.8 i primi mille metri di gara è a 600 dal palo è seguita sempre da Nocchiero M Noa Gensiela più indietro Naldiesole e nera azzurra cavalli a 400 dalla conclusione il parziale ora secco in 13.9 da parte di Naldanov Nocchiero M in seconda posizione poi Noa Gensiela nera azzurra e nera azzurra e nera azzurra nessuno riesce però ad avvicinare Naldanov Nocchiero rimane comunque vicino in scia la battistrada e accenna anche a spostare all'esterno a completamento della piegata in 14.3 Naldanov in vantaggio Nocchiero M poi Noa Gensiela Naldanov in evidenza a 100 dalla conclusione va Nocchiero M a impegnare Naldanov nel finale che si sottrae comunque agevolmente il secondo è per Nocchiero al terzo finisce Noa Gensiela 1.14.5 con 28.3 per la chiusa 14 per la retta d'arrivo 28.9 il penultimo quarto il successo netto è mai in discussione per Naldanov che nel finale è soltanto avvicinata da Nocchiero M che corre comunque molto bene al seguito di Naldanov terzo posto per Noa Gensiela Grazie a tutti